E' il miglior presidente degli arbitri d'Italia. Nella giornata di ieri, in occasione dell'assemblea annuale dei presidenti di tutte le sezioni d'Italia, Giulio Di Bartolomeo, il presidente della sezione AIA di Sulmona, ha avuto l'onore di ricevere dal presidente nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, il premio Riccardo Lattanzi. La giuria ha deciso di conferire tale riconoscimento a Di Bartolomeo per essersi particolarmente distinto nel corso dell'annata sportiva 2020-2021, tra l'altro segnata anche dall'emergenza pandemica in corso. La congratulazione al presidente è arrivata dall'intero consiglio direttivo sezionale e da tutti gli associati ovidiani, ovvero gli arbitri pelinni. Per Di Bartolomeo si tratta di un premio alla carriera che va avanti con successo dopo la conferma per il sesto mandato consecutivo alla guida della sezione AIA Arbitri di Sulmona. Intanto vanno avanti le iscrizioni per diventare un arbrio di calcio. C'è tempo fino al prossimo 10 novembre. Tutte le info sul nostro sito internet www.ondatv.tv